1-0 per esempio è tutta opera sua di Limido che dopo un tiro di punizione rinviato sulla linea da Romano crea indirettamente prima e direttamente dopo, grazie anche ad un intervento non proprio perfetto di Antonelli la premessa del successo. Il terreno è un vero e proprio pantano e tra i pochi ad avere maggiore equilibrio è Barbadiglio che prima della mezz'ora mette sulla testa di Diaz un pallone magari inzuppato d'acqua ma che l'argentino appoggia in rete di precisione. E il 2-0 e sembra tutto deciso, invece il Genova reagisce e Mileti riprende con successo la respinta corta di Paradisi così riaprendo la partita. Antonelli un risultato ancora aperto 2-1 e con queste squadre che stanno vincendo, queste squadre pericolanti è una partita tutta da giocare. Direi di sì anche perché mi sembra che sul piano del gioco noi siamo inferiori purtroppo abbiamo fatto due errori di cui uno io e me ne dispiace molto però penso che potremo ancora recuperare sicuramente. La ripresa decisamente se non ha altrettanti gol riserva certamente uguali emozioni un rigore, una traversa, due espulsioni. I sanguigni di turno sono Mileti e Schiavi. I rosso-blu a differenza degli ilpini perdono un uomo più prezioso nella economia del loro gioco e poi perdono anche le staffe quando Pairetto al ventesimo assegna un rigore per questo aterramento di Diaz. Rivediamo l'azione dal basso e sentiamo il commento del centramente. Sì andavamo tutti e due sulla palla e vedendo all'ultimo l'ho mai spinto, è andato a terra l'arbitro fischiare. Quindi una spinta di Canuti non un intervento del portiere? No, no, è stato il difensore che andavamo tutti e due è mai spinto, sono andato a terra. Colombo finta la prima volta dagli undici metri e l'arbitro fa ripetere. Sul bis cambia angolo e segna il gol del 3 a 1 che fa accendere a Simoni in panchina l'ennesima sigaretta. Ce lo dicano prima, non veniamo neanche giù, ecco questo è un fatto, perché questo è impossibile, ma è impossibile che il guardialino non abbia visto il pallo di Diaz.